Musica Mago prima, comico dopo, ma l'uno senza mai dimenticare l'altro Stiamo parlando di Raul Cremona, comico di Zelighe che ieri sera si è esibito in fiera millenaria portando in scena tutti i suoi personaggi più amati Un cavarettista decisamente singolare per uno spettacolo che diventa un po' un percorso nella sua storia Ecco allora la musica ma anche la magia, i trucchi, il coinvolgimento del pubblico Un successo che ha letteralmente riempito il padiglione zero della fiera dove famiglie con bambini, giovani e anziani hanno partecipato e riso insieme a lui Musica